Camaiore, incidente mortale sulla via sarzanese a Capezzano Pianore. Un uomo di 58 anni in sella ad uno scooter si è scontrato con un SUV e nello schianto ha perso la vita. È successo intorno alle 17 poco distante dalla rotonda del ponte di Sasso. Una lunga scivolata sull'asfalto, in corrispondenza della curva che immette nella frazione di Capezzano e poi lo schianto, violentissimo, contro un SUV Volkswagen che procedeva nella direzione opposta. È questa la dinamica dell'incidente avvenuto alle 17 in cui ha perso la vita un 58enne originario di Camaiore a bordo del suo scooter T-Max. Un boato come lo scoppio di una bomba l'hanno descritto i numerosi testimoni del tragico scontro, intervenuti immediatamente per cercare di soccorrere l'uomo e chiamare i soccorsi. I sanitari della misericordia di Camaiore hanno immediatamente richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pegasso che è atterrato in un campo dietro le case lungo la sarzanese. Intervento che, purtroppo, si è rivelato inutile perché, dopo circa un'ora di tentativi dei medici per stabilizzarlo, l'uomo è deceduto a bordo dell'ambulanza. I rilievi dell'incidente sono affidati al comando di polizia municipale di Camaiore, intervenuto con tre pattuglie, anche per regolare la circolazione dato che il tratto di sarzanese compreso tra le rotonde del Camai della Via Italica è rimasto chiuso per diverse ore. Da capire se l'uomo abbia perso il controllo del mezzo a causa della velocità o di un improvviso malore. La guidatrice del SUV è rimasta illesa ma è dovuta ricorrere all'intervento dei sanitari a causa del forte shock subito nella tragedia.